Tagliatelle al ragù Preparate la pasta all'uovo. Disponete la farina affrontana sulla spianatoia, praticando al centro un incavo nel quale sguscerete le uova. Unite un pizzico di sale e iniziate a impastare, prima solo con la punta delle dita e poi lavorando la pasta con le mani. Procedete con movimenti regolari per circa 15 minuti. Quando l'impasto sarà liscio ed elastico, formate una palla, avvolgetela nella pellicola per alimenti e ponetela a riposare al fresco per un'ora. Trasferite la pasta sulla spianatoia infarinata e stendetela in una sfoglia sottilissima. di circa un millimetro di spessore. Infarinatela leggermente e ripiegatela su se stessa, senza schiacciarla, quindi, con un pesante coltello affilato, ritagliate dalla sfoglia tante striscelle.